Da oggi giovedì 20 ottobre fino a sabato prossimo si svolgerà all'auditorium del Rettorato dell'Università d'Annunzio di Chieti il primo congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia Pediatrica, Reumaped. Il congresso riunisce a Chieti oltre 400 tra medici, infermieri, altri addetti ai lavori e genitori dei pazienti invitati a prendere parte a dibattiti e discussioni di approfondimento relativi alle patologie reumatologiche dei bambini. La dottoressa Luciana Breda, reumatologa pediatra dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti e presidente del congresso, illustra le tematiche nel corso del due giorni. Una sessione particolarmente innovativa è quella dedicata alla cosiddetta sindrome infiammatoria multisistemica, una nuova entità descritta durante la recente pandemia e che colpisce soprattutto i bambini. In particolare oggi pomeriggio iniziamo con un argomento nuovo che ci ha fornito la pandemia, la MISI, che è una patologia multisistemica, infiammatoria, che colpisce vari organi a distanza di due o sei settimane dall'infezione da SARS-CoV-2. Colpisce i bambini, di solito i bambini più grandicelli, può colpire anche gli adulti e può creare dei danni importanti a livello cardiaco. Esordisce in genere con una febbre, dolori addominali, anche macchie cutanee ed una miocardite che se non è prontamente curata può dare e lasciare dei danni importanti come gli aneurismi coronarici. Questa patologia assomiglia molto alla malattia di Kawasaki che noi conosciamo da tanto tempo e il professor Ravelli che oggi è qui con noi è stato il primo a lanciare l'allarma in Italia nell'aprile del 2020 a descrivere questa patologia. Esiste un registro italiano che ha individuato oltre 200 casi. Dottoressa, ci sono delle cure? Sicuramente ci sono delle cure, sono anche molto efficaci, in particolare parlo dei farmaci biologici o biotecnologici innovativi che sicuramente possono risolvere il problema. Però diciamo che lo strumento, quello della vaccinazione, anche e soprattutto per i più piccoli, ai genitori scettici cosa si sente di dire? Mi sento di dire di vaccinare i bambini perché lo dicono fonti autorevoli, lo dice il New England Journal of Medicine che è una delle riviste più autorevoli di medicina, che la vaccinazione riduce il rischio di ospedalizzazione dell'80% e questo secondo me può bastare. Il professor Angelo Ravelli dell'Università di Genova è stato il primo a parlare di questa sindrome infiammatoria multisistemica. Semplicemente è stata una conseguenza dell'infezione che a distanza di due o sei settimane, quando il bambino era già guarito, a seguito delle reazioni di difesa dell'organismo nei confronti del virus che ha causato il Covid, in alcuni pochi soggetti, evidentemente con una predisposizione genetica particolare, ha causato lo sviluppo di questa reazione che noi definiamo post-infettiva o reattiva, cioè non causata dal SARS-CoV-2, cioè dal virus del Covid, ma dalla reazione immunitaria di difesa anomala nei confronti proprio del SARS-CoV-2, dell'infezione. Grazie a tutti.